Gli esperti avevano preallertato che gran parte dell'Italia oggi sarebbe stata sferzata dal vento. La protezione civile con 24 ore di anticipo aveva emanato l'allerta. Gran parte del nostro paese è interessata da venti fortissimi che in alcune regioni del nord si è abbattuto con una violenza inaudita arrivando a toccare i 200 km orari. In Veneto i disagi hanno riguardato in particolare il territorio della provincia di Vicenza dove le raffiche hanno abbattuto pali, cartelli, coperture e addirittura pannelli solari e fotovoltaici. Da ora i vigili del fuoco sono impegnati in interventi di ripristino. In alcune zone gli alberi sono stati abbattuti finendo sulle strade. Le previsioni indicano la presenza del vento forte fino alla mezzanotte del giorno 5. Si raccomanda prudenza ai cittadini.